buongiorno a tutti sono edoardo e collaboro da anni con il fondo dottempia ci troviamo fuori dalle mura del ricetto di candelo perché fuori dalle mura vorrei portarvi questo progetto che stiamo iniziando con la fase 2 di uniti in rete è appunto una camminata un percorso che vorrò farvi fare prendendo spunto dal percorso che ha fatto il capitano tom moore in inghilterra voleva raccogliere mille sterline da destinare ai sanitari che si occupavano dell'emergenza covid 19 e il suo obiettivo era quello di percorrere 100 giri attorno alla propria casa erano 25 metri il perimetro il suo obiettivo era di percorrere 10 giri della casa ogni giorno mi dimenticavo di dirvi che tom moore è un arzillo signore di 100 anni e questi 100 giri le ha fatti in compagnia del suo deambulatore quindi se può farlo una persona così possiamo farlo anche noi basiamo perciò il nostro percorso fuori dalle mura conoscendo meglio quello che è la camminata perché la camminata e non altre attività prima di tutto perché la camminata è più facile c'è un po di tecnica da apprendere ma siamo biomeccanicamente portati a camminare la vedremo poi con le nostre colleghe che si occupano di feet walking e di nordic walking noi ci soffermeremo sul fatto che è più più facile e più naturale è anche meno traumatica la differenza tra la camminata e la corsa è il fatto che la corsa ha una fase di volo che non sarebbe neanche così traumatica se non ci fosse la fase di appoggio successiva quindi la fase di appoggio ci predispone a traumi se la muscolatura e le articolazioni non sono adeguatamente predisposte un altro aspetto importante della camminata è che socializzante io posso prendere e uscire a camminare insieme ai miei amici e le mie amiche parlando quindi la parte di socialità che noi potremo avere su una panchina al parco noi la utilizziamo invece andando a camminare magari in mezzo alla natura la natura un altro fattore molto importante il fatto di rimanere in mezzo al verde soprattutto nel nostro territorio biellese che è pieno di verde pieno di passeggiate di fiori lo andremo a vedere anche con con tutti gli altri partecipanti di questo progetto abbiamo molte aree verdi e il camminare in mezzo alla natura ci permette proprio di essere rilassati avere un beneficio sul lato fisico ma avere anche un beneficio sul lato mentale un altro beneficio importante della della camminata riguarda l'apparato cardiorespiratorio infatti ci permette la camminata di andare ad alzare i battiti andare a aumentare la profondità della respirazione questo potrebbe anche essere un limite perché se è vero possiamo fare una camminata sportiva lo vedremo nei prossimi video che ci permette di alzare ancora di più questa intensità però arrivati ad una certa velocità o corriamo o non riusciamo ad alzare oltre questi battiti in realtà ci sono anche dei piccoli stratagemmi inserire durante la camminata dei tratti in salita nelle scale questo ci permette di allenare anche la forza oltre al semplice apparato cardiocircolatorio infatti fra tutti i benefici che può portare la camminata l'allenamento della forza è un fattore invece che non prende tanto in considerazione a meno che non partiamo proprio dal divano e basta quindi ci si adatta abbastanza rapidamente e bisogna integrare con degli esercizi di forza per permettere poi di avere benefici a 360 gradi sul nostro corpo ma anche su questo vi prepareremo un video apposito vi posso già anticipare una domanda che magari vi sorge spontaneo ma camminare fa dimagrire piuttosto che stare seduti sul divano è sempre meglio muoversi però qual è il problema che il costo energetico della camminata le chilocalorie che noi bruciamo al chilometro è relativamente bassa quindi mettiamo il mio peso non è vero aumento un pochettino perché mi vengono meglio i calcoli però 80 chili il costo energetico della della camminata è la metà del nostro peso al chilometro quindi abbiamo 80 chili diviso 240 sono 40 chilocalorie che bruciamo al chilometro un'uscita media di cinque chilometri mi porta a bruciare 200 chilocalorie la prima volta che apro il frigo e mangio qualche schifezza che non dovrei sono già andato a pari però la camminata mi permette di aumentare la sensibilità insulinica e il partizionamento dei nutrienti quindi l'idea è quello che io mangio se ho un organismo attivo con la muscolatura pronta e magari faccio anche attività aerobica come la camminata il mio organismo quello che integro dove lo va a stipare nella parte di grasso o nella parte di muscolo se io sono metabolicamente attivo va a prendere questa energia e la distribuisce ai muscoli e per quello che è necessaria una parte aerobica anche per quei soggetti che vanno tre volte a settimana in palestra e allenano la muscolatura se non andiamo ad allenare anche la parte cardiaca e la parte respiratoria siamo sempre squilibrati un modo per aumentare il dispendio energetico anche durante la camminata però può essere quello di andare a utilizzare in maniera attiva le braccia come nella pratica di feet walking che ci spiegherà poi giulia o meglio ancora andare a utilizzare le braccia con dei bastoni facendo in modo che le braccia fungano da propulsione in avanti come nel nordic walking come ci andrà a spiegare fiorella e con questo direi che fuori dalle mura siamo siamo usciti siamo immersi nella natura non ci resta altro che infilare un paio di scarpe e incominciare il nostro percorso ciao da edoardo